Il gruppo 5 Stelle a Montecitorio alza il tiro e annuncia la presentazione di una mozione di spiducia individuale nei confronti del ministro della Notizia. Inutile tergiversare, il ministro Cancellieri deve dimettersi. Inoltre il Movimento 5 Stelle vuole conoscere tutte le operazioni che sono dietro quella rete formata dai magistrati del DAP e dai operatori carceriari che hanno permesso questo scandalo.